Cala il sipario sull'era di Carlos Ghosn in Renault. La casa automobilistica francese ha pubblicato i dati relativi al 2018 che segnano una vera e propria caduta libera. L'utile netto è stato di 3 miliardi e 300 milioni di euro, in calo del 37% rispetto al 2017. C'è stata una diminuzione del 2-3% nelle entrate provenienti dalle vendite realizzate all'estero. Inoltre il contributo di Nissan, partecipata al 43% da Renault, si è quasi dimezzato. Dietro questi numeri si scorge inoltre l'ombra dei contraccolpi dell'arresto del 65enne top manager brasiliano, ex amministratore delegato dell'azienda. Ghosn è stato in carcere in Giappone per tre mesi per sospette negligenze finanziarie e la vicenda ha avuto ripercussioni sui titoli in borsa del gruppo. Ghosn da parte sua ha cambiato strategia difensiva e si farà assistere da un legale giapponese. Intanto la Renault ha deciso di privarlo di diversi indennizi legati ad alcune clausole del suo contratto e quindi non gli verserà un compenso che doveva essere pari a due anni di stipendio che si aggirava intorno ai 16 milioni di euro all'anno. In questo clima, il nuovo presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, è arrivato in Giappone per incontrare i vertici di Nissan e rafforzare l'alleanza franco-nipponica. I will meet my friends of the teams of Nissan and Nissan.